Beati gli operatori di pace, ci scrive il Santo Padre Benedetto XVI in quello che è il messaggio che lui ha voluto fare per la Chiesa intera per questa giornata che la Chiesa dedica alla realtà della pace come dono grande di cui l'umanità ha estremo bisogno. Beati gli operatori di pace. Siamo alla fine del 2012, questo anno che abbiamo vissuto, credo, con elementi di speranza, con qualche delusione, con qualche amarezza, con qualche sofferenza, però siamo a chiudere un anno che ci ha visti camminare nel cammino della vita. Per alcuni nel cammino della vita illuminata dalla fede, per altri per un cammino di vita che talvolta ha fatto a meno della realtà della fede, ma comunque siamo stati chiamati e forse abbiamo fatto opere di bene in questo anno. Ne ringraziamo il Signore, ne ringraziamo il Signore perché ognuno di noi che ha doni da mettere a disposizione degli altri è chiamato a vivere opere di bene e qualora ne avessimo fatto poche o troppo poche queste opere di bene, programmiamo per il nuovo anno un impegno più intenso nell'essere costruttore di opere di bene, essere, potremmo dire, operatori di pace in sintonia con il Santo Padre. Costruire la pace, un valore grande che la comunità dei credenti ha sempre sentito importantissimo nella sua espressione di vita, nel suo camminare in mezzo agli uomini, in mezzo alle donne del tempo che vivono con noi questa esperienza di vita. Un tempo di vita per alcuni di noi incominciato molti anni fa, per altri qualche bambino che vedo, che intravedo, incominciato da pochissimo tempo, è un dono grande, dobbiamo viverlo con intensità, cercando di mettere a frutto quei doni che il Signore ci ha dato. Avete sentito, ieri è morta la signora Levi Montalcini, una donna che ha vissuto 103 anni, tanti, però ha cercato di vivere il suo tempo e la sua vita come ricercatrice, come studiosa di problemi molto grossi che noi non siamo in grado neppure forse di percepire, ma ha vissuto la sua vita con intensità. La ringraziamo per quello che ha saputo manifestare nella sua professione, nella sua professionalità, nella sua realtà di studiosa. Ecco, sentiamo di essere allegrata a lei per quelle scoperte che ha fatto e che sono tornate a vantaggio e continueranno ad essere a vantaggio dell'umanità. Noi sappiamo che quest'anno la Comunità Europea ha ricevuto il Nobel per la Pace nel 2012, il premio Nobel per la Pace, sì, la Comunità Europea nel suo insieme, perché è stata una comunità in cui si è cercato di eliminare focolai di dispersione, di focolai di guerra, anche se non eclatanti, però è stata capace di costruire, almeno in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, situazioni di pace. Ecco, sì, siamo riconoscenti per questo, in qualche modo, riconoscimento dato alla nostra realtà, siamo anche noi cittadini dell'Europa, però dobbiamo interrogarci e sentirci interpellati se questa costruzione di pace che per noi, così, tutto sommato è abbastanza consolidata nel nostro contesto europeo, se questa realtà di pace la sentiamo vera anche per altre realtà. Noi sentiamo, dalle notizie che la televisione e che i giornali ci danno, un tempo non si sapevano queste cose, non c'era questa capacità di essere a contatto col mondo intero. Noi sappiamo che tante altre realtà del mondo hanno bisogno di costruire la pace, hanno bisogno di essere sostenuti per la costruzione della pace e noi come cristiani, oltre al messaggio del Santo Padre che cogliamo con tanto rispetto, con tanta venerazione, come una voce autorevole che ci richiama a questi impegni di credenti. Noi abbiamo questa esperienza alla fine di ogni anno, molti cristiani si ritrovano in alcune parti d'Italia per proclamare la pace anche visivamente con la loro presenza, con le loro attività, con i loro esseri protagonisti nelle varie realtà ecclesiali, protagonisti della realtà della pace. Quest'anno si sta svolgendo, questa sera qui, mentre noi siamo qua a Lecce, una marcia per la pace. Ma questa marcia della pace che viviamo con la comunità religiosa cristiana di Lecce coinvolge tutta la realtà italiana. E guardando anche al di là della realtà italiana, è una manifestazione che in qualche modo sollecita la realtà della pace che è tanto necessaria e tanto richiesta da tanti. In tante parti del mondo noi sappiamo che la pace non c'è. La gente muore, viene ammazzata, viene eliminata. Sentiamo la Siria, questo paese bello, glorioso nella sua storia che vive una tragedia di morte, di sofferenze che continua ormai da circa un anno. Che tristezza! Vedere che la gente che muore, viene ammazzata mentre va alla ricerca del pane e si mette in fila per ritirare il pane. Qualche mascalzone, qualche delinquente, qualcuno connivente anche con il potere probabilmente. Ecco, allo scopo di, in qualche modo, intimorire la gente, interviene con queste forme di oppressione e di uccisione. Siamo ammareggiati di questo. Anche nella realtà della, quello che era l'ex Congo, ex Congo, lo Zaire, noi abbiamo focolai di guerra un po' in tante parti dello Zaire e talvolta voluti, messi in atto, messi in funzione per creare discredito tra la gente, per creare confusione, per creare in qualche modo amarezza tra il potere centrale dello Stato e le realtà locali. Però leggiamo queste notizie in maniera molto fugace, diciamo sì, nel Kivu, nella regione del Kivu, attorno alla città di Goma, i ribelli si sono messi ad ammazzare tanta gente, a fare stragi di la città di Goma e di altre realtà viciniori. Poi ci passa sopra, diciamo, poveretti, il massimo che possiamo dire. Noi, noi dobbiamo essere costruttori desiderosi, quasi a dire al Signore, Signore, dacci questa pace di cui abbiamo bisogno, di cui tanta gente nel mondo ha bisogno. Fa sorgere uomini e donne capaci di lanciare il messaggio della pace e di essere protagonisti in questo messaggio di pace. Sì, costruire sentimenti di pace nel nostro vivere quotidiano. Questa sera, mentre noi siamo qui ancora a Roma, c'è un'altra manifestazione molto bella, molto significativa. Circa 40.000 e oltre giovani, i giovani di Tezè, provenienti dal mondo intero, che trovano a Tezè questa località della Francia in cui vivono, mettono insieme le loro esperienze di fede e si fanno protagonisti di annunci di pace, protagonisti di operatori di pace. 40.000 giovani accolti dalle famiglie della città di Roma per circa una settimana e vivono questa esperienza. costruttori di pace. Il Papa li ha chiamati come persone che portano delle piccole luci nel mondo, piccole luci che si accendono. 40.000 giovani che si ritrovano a Roma, provenienti dal mondo intero, 40.000 giovani che sentono l'esigenza di essere costruttori di pace. Sono segni belli questi che non dobbiamo lasciar cadere e farci prendere da altre realtà che ci distraggono e magari non ci permettono di vedere questi segni che sono elementi di speranza. Abbiamo vissuto la realtà del Natale. San Giovanni ci dice che ha piantato la tenda in mezzo a noi. Sì, il progetto di Dio che ci porta ad essere attenti alla sua presenza in una realtà povera, in una realtà indifesa, ma una realtà che è segno, elemento di speranza per chi crede a questa presenza. Dobbiamo essere capaci di alzare lo sguardo dei nostri piccoli problemi quotidiani, quelli che viviamo ogni giorno, quello che la realtà che ci circonda ci offre ogni giorno, talvolta troppo piccoli, troppo meschini, troppo poveri, troppo deboli, e guardare anche al di fuori della nostra realtà cittadina, della nostra realtà italiana e sentirci di essere annunciatori di qualcosa che può dare speranza. E non possiamo demandare ad altri questa speranza da annunciare. Dobbiamo essere annunciatori di speranza, sentirci protagonisti e operatori di pace. Dobbiamo sentire la vita nostra come una vita che nella sua integralità ci porta ad amare, a difendere, ad annunciare, a programmare opere di speranza e opere di pace. Ecco, il Santo Padre ci ricorda nel suo messaggio che dicevo non ha avuto molta risonanza, forse perché gli uomini della nostra realtà, soprattutto italiana, sono impegnati nel programmare le loro elezioni prossime, future, vicine, con quelle realtà di scegliere o far scegliere i nuovi protagonisti della politica. Siamo rispettosi di tutto questo, però probabilmente per queste realtà piccole in cui sono impegnati non hanno colto il grande messaggio della pace di cui il mondo ha bisogno e di cui ognuno di noi deve essere capace di dare il suo apporto per questa realtà di pace. difendere la pace, difendere la realtà, sì, il Santo Padre ci dice difendere la realtà della famiglia, del matrimonio, il matrimonio fondato sulla unione tra l'uomo e la donna, rifiutando tutti i tentativi che cercano di stabilizzare questa realtà importante della nostra società, il matrimonio fra un uomo e una donna, il matrimonio aperto alla vita e cercando di rifiutare, di allontanare di tutte le altre forme che in qualche modo cercano di stabilizzare questa realtà. Superare forme di intolleranza religiosa, ci dice anche il Papa, sì, sentiamo queste notizie che ci fanno soffrire, pur sentendole lontano, però sentiamo che è una ferita che viene inflitta al corpo della Chiesa, la Nigeria, questo Paese immenso, questo Paese ricco, questo Paese però conflittuale tra sé, tra un Nord e un Sud, che sono così, in forme diverse, vivono la loro fede, i musulmani da una parte, i cristiani dall'altra, però non possiamo noi far valere le nostre ragioni eliminando la parte che non fa parte di noi, che non è questa realtà che ci riguarda nella fede. Troppi cristiani sono ammazzati in varie parti della Nigeria e da altre parti del mondo, sì, però noi con questa preghiera che facciamo? Dicevamo il canto del Vespro, la preghiera che ci prepara alla festa di domani, il canto del Vespro, vogliamo gridare al Signore la nostra solidarietà con tanta gente che soffre, con tanta gente che muore e dire, Signore, facci essere costruttori di pace, costruttori di pace e vogliamo non dimenticare in questo momento anche la realtà di tanta gente che nel mondo del lavoro trova difficoltà a farsi largo, a trovare uno spazio per poter esprimere le proprie capacità, della propria dignità di uomo, di donna che possano vivere, dare il loro contributo anche alla realtà lavorativa e in qualche modo contributo alla realtà sociale del nostro tempo. Vogliamo ricordare anche i nostri operai, soprattutto quelli che soffrono di più, che hanno avuto l'amarezza di essere licenziati recentemente o tuttora stanno con questa spada di damocle sopra la loro testa aspettando forse un licenziamento che verrà conferito nel giro di qualche giorno o qualche settimana. Siamo vicini a tutto il mondo degli operai nostri, locali, ma anche a una realtà più ampia che riguarda l'Italia intera e diciamo di più, che riguarda il mondo intero. Essere costruttori di pace, auspicare dal Signore, impetrare da Lui la forza per essere capaci di offrire elementi di speranza in questa prospettiva che il mondo intero ha bisogno di ritrovare e di costruire all'interno di se stesso.